signori buongiorno e benvenuti sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale quarto appuntamento con la rubrica dello scrivere una serie e devo ammettere che questo è il video più lungo per questa serie e anche quello che mi ha impegnato di più perché non solo dovremmo andare a vedere qual è stata poi la linea narrativa orizzontale che abbiamo scelto per la nostra quest collettiva ma bisognerà andare a vedere anche quali dovranno essere quei dettagli su cui bisogna lavorare per le varie linee narrative verticali prima di cominciare però voglio come sempre ringraziare tutti quelli che hanno contribuito mandando le loro proposte senza di loro questa serie non potrebbe esistere e anche tutti quelli che hanno perso tempo per votare le varie proposte per decidere chi sarebbe stato il vincitore e questa volta è stato anche veramente difficile un sacco di casi di un secuo comunque grazie a nome sia mio che di tutti gli altri se non ci foste voi questa rubrica non potrebbe esistere e quindi nessuno potrebbe vederla detto questo mettetevi comodi andatevi a prendere pop con qualcosa da bere perché oggi staremo qui per un po e poi vediamo come sottoporre il nostro soggetto al suo trattamento se come abbiamo visto nello scorso video il soggetto è la parte più tecnica di una quest il trattamento è la parte più artistica quando si parla di sottoporre una quest al trattamento vuol dire prendere l'ossatura della storia quella realizzata durante la fase del soggetto e ad andare ad aggiungergli tutti quegli elementi che la trasformino da uno schema in narrazione a una storia vera e propria interessante sia da essere raccontata sia da essere ascoltata mettiamola così non vi nascondo che per me questo è il momento più interessante quello che mi piace di più del processo di scrittura di una quest quando si prende la rigida struttura narrativa e gli atti e la fa si fa diventare fondamentalmente una sorta di romanzo se voglio ammetterla per quanto però questo sia il momento più divertente della stasura una quest cominciare a farlo senza avere una solida struttura narrativa alle spalle probabilmente causa una grande confusione se non si ha definito prima tutto quello su cui si deve andare a lavorare probabilmente vi sarà capitato di giocare una quest in cui il master continua ad aggiungere personaggi elementi di descrizione retroscena sul mondo lore dell'ambientazione ma senza che sembri esserci un punto di sbocco non si capisce dove il master voglia andare a parare sembra semplicemente far fare ai suoi giocatori un giro turistico del mondo per fargli vedere quanto è ben dettagliato ecco quello probabilmente il sintomo del fatto che il trattamento ha cominciato ad essere applicato molto prima che la linea narrativa della storia venisse finita per non compiere anche noi lo stesso errore quindi per prima cosa andiamo a vedere quale sarà la nostra linea narrativa orizzontale e quale sarà la nostra struttura degli atti la vittima era un giurista alle dipendenze della città non era un politico non faceva parte direttamente di nessuna delle tre fazioni era un giurista incaricato di rivedere la bozza per il nuovo regolamento per la nuova ordinanza urbana sul controllo e la magia in città diciamo era un funzionario di concorso come potrebbe essere un giudice ovviamente però il suo ruolo all'interno del governo cittadino lo aveva messo in contatto con esponenti di tutte le tre fazioni era anche un personaggio eccentrico diciamo uno studioso che poteva vantare una vasta collezione personale di oggetti sia magici che esoterici comunque di curiosità da tutto il mondo i giocatori erano in contatto con lui proprio perché erano tra le persone che gli fornivano oggetti per la sua collezione in quanto avventurieri fondamentalmente lui gli comprava le cose bizzarre che questi trovano nei dungeon la quest inizia proprio con gli avventurieri di ritorno ad una delle loro avventure che vanno a casa del personaggio per vendergli degli artefatti trovano la casa ribaltata per aria e il cadavere maciullato del loro committente per terra nel suo studio per quanto l'anima abbia ormai abbandonato il corpo è però rimasta incidentalmente intrappolata proprio all'interno di uno degli artefatti della collezione probabilmente un medaglione comunque un oggetto che i giocatori possono portarci indietro l'anima può comunicare con loro non sa dirgli come è avvenuto l'omicidio lui stava lavorando la sua bozza poi di campo nero e si è svegliato ora e dopo già intrappolato all'interno dell'artefatto ovviamente l'anima chiederà ai giocatori di risolvere il caso del suo omicidio e i giocatori potranno controllare la casa una cosa che dovrebbe attirare la loro attenzione e che nonostante la casa sia stata messa a suo quadro non sembra mancare nulla ma la moglie del loro committente non si riesce a trovare nonostante i suoi effetti personali siano ancora lì non facendo strettamente parte della quest non ci dilunghiamo però personalmente io farei giocare anche la parte in cui loro effettivamente vanno nel dungeon a recuperare degli artefatti più che altro perché serve sia per rodare il gruppo prima dell'inizio della saga vera e propria sia per poter introdurre preventivamente sia il committente che sua moglie prima che il caso di omicidio inizi in modo da dare una motivazione più personale per i giocatori per interessarsi alla morte del loro alleato e non sia semplicemente una cosa che interessa i personaggi ma non ai giocatori perché il master ha detto che dovete indagare quindi dovete indagare comunque diciamo che questo è il nostro primo atto è stata fatta una presentazione dei personaggi una presentazione dell'ambiente magari descrivere qualcosa della città ma i personaggi hanno tutto quello che gli serve e i giocatori sanno che cosa ci si aspetta da loro per questa saga con l'inizio del secondo atto iniziano le indagini veri e proprie il fantasma potrà fornire un elenco di persone che potevano avere interesse a vederlo morto ovviamente saranno una perfazione e dirà anche ai personaggi di andare a cercare sua moglie perché probabilmente per lo meno testimone dell'omicidio probabilmente sarà scappata in preda al panico e avere la sua testimonianza potrebbe essere importante una piccola nota qua non dovete cercare di forzare per forza un railroad nel caso voleste giocarla è molto probabile che i giocatori sia in questo punto sia o in tutto il resto della quest siano i primi a proporre domande su chi poteva vederlo morto o a interessarsi di che fine abbia fatta la moglie ovviamente il fantasma avrà un ruolo attivo solo se i giocatori sono persi o sembrano confusi su quello che devono fare intanto dei giocatori vanno avanti con le loro proposte il fantasma sarà un'entità passiva che risponde alle domande o si congratula con loro per la loro iniziativa i personaggi quindi cominceranno andare in giro a cercare la moglie per la città e a andare a interrogare tutti i possibili sospetti del fantasma in questo modo il master avrà la possibilità di descrivere per bene la città e le varie location in cui si trovano le varie fazioni in questo modo potrà caratterizzare sia le fazioni che i sospetti insieme a un certo punto durante le loro indagini verranno convocati dalla polizia che avendo saputo dell'omicidio avendo saputo che loro stanno indagando in giro gli chiederà perché non sono andati a riferire direttamente alla polizia e perché stanno facendo i vigilanti in giro per la città ovviamente se loro invece sono andati a denunciare la polizia la polizia sarà sospettosa di loro per il fatto che sono stati i primi a vedere la vittima diciamo che comunque l'intromissione della polizia nell'indagine serve più che altro ad aumentare la tensione drammatica e a mettere proprio pressione sui personaggi adesso non si tratta più di risolvere il mistero per fare un favore al loro amico fantasma o per ricevere il tesoro se tratta di risolvere il mistero prima che la polizia decida che sono stati loro ad assassinare il tizio e metterlo in galera a questo punto oramai sarà passato qualche giorno in tempo di gioco e il fatto che la moglie non si sia ancora fatta vedere dovrebbe cominciare a essere preoccupante il personaggio il fantasma spingerà i giocatori a cercarla più attivamente se non sono i giocatori a arrivarci da soli quando troveranno la moglie ci sarà il colpo di scena perché la moglie sarà in uno stato totalmente psicotico i suoi impianti cibernetici che aveva installati dai mecabaroni per via di motivi che non sono importanti in questo momento sembrano aver subito un malfunzionamento catastrofico lei è praticamente in preda a una psicodisi violenta e omicida non sembra esserci un modo per parlare con la moglie per quanto loro ci possano provare dovranno in qualche modo fermarla prima che uccida qualcun altro ammesso che non l'abbia già fatto diciamo che con lo scontro con la moglie si chiude la prima metà del secondo atto e lo scontro sarà il climax del secondo atto a questo punto sembrerà che sia stata la moglie a uccidere il marito in preda alla furia psicotica per via dei suoi impianti malfunzionanti diciamo che poi ci sarà anche un ribaltamento rispetto allo schema generale del giallo perché questa sarà una falsa vittoria ai giocatori dovrà essere data l'impressione che l'assassino e la moglie loro hanno risolto il delitto potranno portare il cadavere della moglie alla polizia come prova per scagionare loro stessi e dire di aver risolto la situazione il fantasma sarà ovviamente infuriato per quello che è successo e accuserà i metabaroni del fatto che il malfunzionamento degli impianti della moglie non è un caso ma è qualcosa di artificiale è stato un sabotaggio la sua ipotesi sarà che dato che lui stava lavorando a un documento che avrebbe reso la restrizioni sull'uso della magia in città molto più larghe i metabaroni avevano paura che questo gli avrebbe fatto perdere influenza nei confronti dei maghi e quindi l'hanno fondamentalmente ucciso per vendetta incolpando lui della loro eventuale perdita di potere. Ora nelle varie proposte in molti hanno detto che il motivo per l'omicidio era appunto il documento su cui il fantasma stava lavorando in realtà questo però porterebbe a un buco di sceneggiatura perché avendo il fantasma a quel punto il documento non servirebbe a niente e la quest sarebbe autorisolta basterebbe portare il fantasma davanti al concilio cittadino e lui potrebbe dire a voce quello che stava scrivendo sul documento o potrebbe semplicemente dettare un nuovo documento a uno dei personaggi però questa è una cosa su cui parleremo in avanti perché dà la possibilità di sfruttare appunto un potenziale buco di sceneggiatura a proprio vantaggio. A questo punto comunque con gli avventurieri che hanno portato il corpo e le accuse del fantasma la polizia andrà ad arrestare i capi dei mecabaroni e il fantasma dirà che vuole ricompensare i personaggi. I suoi beni sarebbero dovuti andare alla moglie ma dato che anche la moglie è morta a questo punto tutte le sue proprietà passerebbero alla città e il fantasma farà proprio notare il fatto che lui non vuole che i suoi beni vadano alla città perché poi in mente i maghi li metterebbero tutti in un museo e quella è gente che non ha mai fatto niente per lui in realtà nessuno nella città l'ha aiutato l'unico che l'hanno veramente aiutato a risolvere il suo delitto sono gli avventurieri quindi vuole rendere gli avventurieri eredi del suo patrimonio e dirà che il giorno dopo andranno tutti dal suo notaio e lui gli farà intestare i propri beni il giorno dopo quando gli avventurieri con il loro artefatto staranno andando dal notaio troveranno lì di fronte la polizia pronta ad arrestarli la polizia dirà loro che hanno fatto esaminare il cadavere e sia dall'analisi degli artefatti magici all'interno del corpo sia da successive divinazioni lanciate per confermare le ipotesi risulta che siano stati proprio gli avventurieri a manomettere il cadavere e probabilmente tutto questo era una truffa degli avventurieri ai danni del povero giurista che hanno fatto in modo di sabotagli la moglie e farlo uccidere in modo che lui fosse riconoscente con loro e si facessero intestare i beni ora a questo punto o i giocatori si lasceranno arrestare o si scontreranno con la polizia e se vincono scappano se perdono si fanno finiscono comunque arrestati indipendentemente da come finirà queste sono le due biforcazioni del railroad mettiamola così questo li porterà a entrare in contatto con l'ultimo dei meccano baroni ancora libero latitante perché per ora è riuscito a sfuggire all'arresto da parte della polizia se la cosa più probabile i giocatori riusciranno a scappare incontreranno l'ultimo meccano barone nello stesso posto dove sono andati a nascondersi loro fondamentalmente perché ovviamente sarà un posto comodo dove andrà a nascondersi altrimenti sarà lui stesso a farli evadere dal carcere se loro si sono lasciati incarcerare o se non sono riusciti a evadere indipendentemente l'ultimo dei meccano baroni spiegherà loro che lui sa benissimo che loro non sono dei truffatori sa benissimo che non sono stati loro a sabotare gli impianti nella moglie perché in quanto meccano barone a sua volta sa che manipolare gli impianti cibernecitici dei meccano baroni per ottenere un comportamento del genere non è impossibile ma richiede delle conoscenze di di magia e di meccanica che vanno sicuramente al di là di quello che gli avventurieri potrebbero essere in grado di fare e tra l'altro essendo lui un meccano barone sa che non sono stati loro e adesso che la polizia invece di liberare i meccano baroni sta dicendo che i meccano baroni hanno collaborato con gli avventurieri per sabotare la moglie e lui prima di quel momento non aveva idea di chi fossero gli avventurieri sospetta molto fortemente che siano tutti vittime di un raggiro di un complotto ai danni sia degli avventurieri che dei meccano baroni e dato che gli avventurieri sembrano gente in gamba o almeno sono riusciti ad arrivare fino lì lui fondamentalmente non ha nessun altro con cui allearsi per risolvere questa situazione se è possibile fare in modo che l'ultimo dei meccano baroni sia proprio uno di quelli che era stato sospettato all'inizio in modo che sia lo stesso png che i giocatori già conoscono perché lo avevano interrogato durante la prima metà del secondo atto questa ovviamente sarà la falsa sconfitta sembra che tutto sia perduto ma in realtà anche solo parlando col meccano baroni o comunque con qualche indagine in città o anche solo dei tiri qualche tipo di conoscenza i giocatori si renderanno conto che gli unici ad avere delle conoscenze magiche abbastanza avanzate da effettuare un sabotaggio del genere che non siano i meccano baroni sono proprio gli appartenenti alla gilda dei maghi meno il concilio dei maghi anziani nella città che erano già in contrasto con i meccano baroni e tra l'altro è la gilda dei maghi a fornire alla polizia gli esperti sia per analizzare gli oggetti magici sia per lanciare le divinazioni per confermare tutti i sospetti alla polizia quindi diciamo che quelli che avrebbero più possibilità di convincere la polizia di questo sono proprio i maghi e sono anche gli unici che potrebbero avere un vago interesse nel farlo a questo punto i giocatori resisi conto di essere caduti in una cospirazione della gilda dei maghi per scagionare loro stessi e i metà baroni che loro hanno tirato dentro il complotto non avranno altro da fare che andare alla sede della gilda dei maghi anche in questo caso probabilmente avranno già visitato il posto perché avranno parlato con i maghi all'inizio dell'atto questo segnerà l'inizio del terzo atto nel terzo atto i personaggi si introdurranno all'interno della gilda dei maghi cercheranno le prove per dimostrare la cospirazione quasi sicuramente dovranno combattere contro i maghi anziani i loro servitori questo sarà diciamo il boss finale della campagna come la moglie è stato il boss di metà campagna alla fine ovviamente i personaggi giocanti vincono porteranno le prove alla polizia si faranno scagionare e scopriranno anche che i maghi hanno poi usato la cosa per screditare in meccano baroni ma la loro idea iniziale era proprio quella di mettere le mani sulla collezione di artefatti del fantasma perché per quanto lui le ritenesse chincaglierie di valore culturale in realtà in mezzo a quella roba c'è roba estremamente potente come il medaglione in trappo l'anima finita in mano agli avventurieri e dato che se lui fosse morto senza redi legali tutto sarebbe passato alla città e la città si sarebbe rivolta ai maghi per classificare e catalogare la roba loro avrebbero avuto un accesso perfettamente legale a potenziali tesori magici che ora invece saranno proprietà dei giocatori da qui in avanti la storia potrebbe semplicemente terminare il mistero è stato risolto il fantasma è stato vendicato i giocatori sono ricompensati ovviamente il master adesso potrebbe andare avanti e i giocatori usano gli oggetti magici per equipaggiarsi sarà il loro tesoro e in più avranno anche un nuovo simpatico png da portarsi dietro cioè il fantasma all'interno del medaglione e decideranno loro se vogliono reincarnarlo se vogliono portarselo dietro potrebbe diventare un png ricorrente comunque per quello che interessa a noi la nostra linea narrativa orizzontale sia dell'impresa dei giocatori sia di cosa effettivamente è successo nel delitto sono finite perfetto ora abbiamo una linea narrativa orizzontale definita in realtà ne abbiamo due abbiamo sia la linea narrativa di quello che si prevede facendo i personaggi sia la linea narrativa di che cosa effettivamente è successo comunque abbiamo una struttura degli atti sappiamo quali scene saranno richieste in ogni atto abbiamo una motivazione esplicita per i giocatori per spingerli a fare quello che devono fare possiamo quindi dire che il grosso del lavoro è stato fatto la quest però non è ancora pronta per essere portata al tavolo perché per quanto abbia una sua struttura manca di tutti quegli elementi che la rendono effettivamente interessanti questa non è una quest questo è il riassunto molto stringato di una quest se vogliamo rendere quello che abbiamo scritto vincente per i giocatori è arrivato il momento di aggiungere tutti i dettagli che servono e quindi sottoporre la quest al trattamento per prima cosa andiamo a vedere quali sono le linee narrative verticali che ci interessano abbiamo perlomeno tre combattimenti sicuri quello contro la moglie quello contro le guardie quello contro i maghi più altri tre incontri quattro incontri di non combattimento il primo quello col fantasma e poi un incontro per fazione e ovviamente a questi vanno ad aggiungersi tutte quelle situazioni in cui i personaggi dovranno trovarsi all'interno della quest magari il master vorrà inserire altri combattimenti con i malviventi dei bassi fondi mentre loro fanno le indagini o altre sotto quest anche se è già abbastanza lunga così ma se volesse fare qualcosa in molto più ampio potrebbe ancora farlo ognuno di questi incontri ovviamente andrebbe definito con dei blocchi di statistiche in base al regolamento che poi si sceglierà di utilizzare ora noi per quanto ci riguarda come esercizio di costruzione della quest questo non lo faremo se qualcuno vuole farlo ben venga ma non è così rilevante ovviamente però quello che veramente è rilevante invece che ognuno di questi incontri deve essere caratterizzato i png devono essere non solo descritti ma bisognerà dare loro un nome bisognerà dare loro una caratterizzazione bisognerà dare loro una motivazione una cosa è dire i personaggi andranno a parlare a vari rappresentanti dentro le sedi delle fazioni un'altra è mettere in piedi questi incontri chi saranno questi rappresentanti come si comporteranno ma al di là di questo come saranno fatte le sedi e le fazioni e in che modo gli elementi descrittivi sia dei personaggi che delle sedi andranno a rafforzare il tema sia della quest sia di quella singola fazione la nostra è una quest urbana quindi la città stessa in realtà è uno dei personaggi della quest come si chiama come sarà fatta abbiamo detto che c'è una sorta di consiglio cittadino ma come funziona il governo al dia di questo serviranno poi elementi minimi per caratterizzare la città vera e propria e renderla verosimile per i giocatori i giocatori andranno a casa del loro committente come è fatta questa casa anche solo qual è l'indirizzo che c'è sulla porta come si chiamano le vie della città quali sono i toponimi geografici della zona intorno abbiamo anche detto che la quest sarà un dungeon punk o voi molti di voi vogliamo chiamarla più semplicemente uno steampunk ok com'è che questo verrà rappresentato all'interno della città un esercizio molto facile semplicemente quello di dire immaginare di essere in mezzo a una strada e guardarsi intorno che cosa si vede che fa capire immediatamente qual è l'atmosfera di questa città e che cosa la distingue dalle altre per tutto questo il master dovrà preparare dei materiali che siano delle descrizioni che lui si scrive ma potrebbero essere anche delle immagini da mostrare ai giocatori mentre scrive la città o proprio degli handout da consegnare loro per dargli qualcosa di tangibile da avere in mano all'interno della quest per esempio abbiamo due oggetti importanti uno è il medaglione con il fantasma e l'altro è questa ordinanza cittadina che sta venendo scritta ora magari realizzare un medaglione è qualcosa di complesso anche se fattibile però il master potrebbe realizzare proprio l'ordinanza c'è un foglio dove c'è scritto la legge della città con magari firme bolli cosa del genere per farlo sembrare un documento ufficiale sarebbe qualcosa di interessante da avere in mano per i giocatori ma potrebbe anche essere non lo so un quotidiano a un certo punto i giocatori mentre indagano sul delitto potranno comprare un giornale dove ci sono degli articoli che parlano del fatto che loro stanno indagando sul delitto che il master potrebbe prepararsi prima e consegnarli diciamo che in questa fase di linee narrative verticali il master può sbizzarrirsi nel fare tutto quello che ritiene che possa renderla quest più interessante per i giocatori ovviamente però tutti questi elementi sono fin troppi e non sarebbe possibile gestirli utilizzando semplicemente la sessione dei messaggi di youtube per chi però vorrà partecipare per il prossimo video il mese prossimo ci sono molte cose che può fare prima di tutto abbiamo bisogno di un nome una motivazione una descrizione per tutti i personaggi che sono a passi per ora e magari servivano anche nuovi personaggi magari già nel video scorso qualcuno ha proposto il coroner come uno dei personaggi magari il capo della polizia potrebbe essere uno dei personaggi comunque diciamo che nome descrizione motivazione di tutti i personaggi quello può essere inviato per la prossima volta così vedremo di cominciare ad attaccare un po di carne sull'ossatura dello scheletro come sempre non è necessario che facciate tutto mandate quello che vi ha ispirato e ovviamente poi il discorso finale sarà un insieme di tutte le proposte che sono arrivate se avete una buona idea per qualcosa mandate quella e sarà qualcun altro a scrivere per qualcos'altro e come sempre votate anche le idee quelle che riceveranno più like che verranno diciamo prese preferenzialmente rispetto alle altre nel video del mese prossimo e scrivetemi anche come voi gestite il trattamento per la vostra quest se usate questo metodo se ne usate un altro qual è l'altro metodo magari migliore di questo se il video vi è piaciuto mettete un like e schiacciate la campanella in modo da ricevere le notifiche iscrivetevi e condividete il video che aiuta a crescere il canale io sono il Master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video